ciao a tutti ragazzi oggi vi parlo dei nuovi bastoncini lecchi ultratrail fx1 super light un nome lunghissimo davvero lunghissimo ma per dei bastoncini molto interessanti e soprattutto molto prestazionali ma iniziamo subito la recensione che ve ne parlo meglio come al solito partiamo dal peso questi bastoncini pesano 137 grammi è un valore talmente piccolo che vi assicuro non si sentono per nulla in mano questi bastoncini il primo aspetto di cui voglio parlarvi di questi bastoncini è il suo sistema di apertura e chiusura come tanti bastoncini di lake e soprattutto da trail è diviso in tre parti o di realtà in quattro perché la quarta è inserita all'interno della parte superiore il bastoncino come si fa ad aprire basta semplicemente andare a tirare in modo tale che questo qua vada a scattare qua c'è il push button quindi questo qua va a tirarsi da solo e va a uscire e all'interno naturalmente per tirarsi c'è il solito cordino in plastica flessibile che lo va a tirare è un bastoncino che con questo sistema di apertura lo si può aprire io penso che i migliori lo apriranno in due secondi io di solito ce ne metto magari quattro però lo si può aprire veramente molto molto velocemente e ha un sistema d'apertura che anche quando andiamo a caricarci tanto peso anche se andiamo diciamo un po a peso morto sul bastoncino non si apre e soprattutto non ha mai ceduto quindi ben venga e qui voglio far vedere l'attenzione per i dettagli il push button ha un incavo tagliato nella parte in cui va ad incastrarsi questo perché quando andiamo a chiuderlo andiamo a premere è più semplice che questo vada a inserirsi nella parte di chiusura visto che parliamo del tubolare beh naturalmente il materiale è carbonio ad alta prestazione e invece la grandezza dei singoli tubolari sono 14 mm per la parte superiore e 12 mm per la parte inferiore la parte inferiore a tutta lunghezza sempre 12 mm non va a dividersi naturalmente per quanto riguarda poi il bastone questo è a misura standard se non ricordo mai partono dai 110 arrivano ai 135 con salti di 5 cm ognuno non è naturalmente regolabile questo per andare a diminuirne il peso arriviamo però a parlare della parte superiore soprattutto della parte dobbiamo appoggiare le nostre mani questa parte è in sughero il sughero è un materiale come sappiamo che non fa sudare tende ad asciugarsi anche abbastanza velocemente è un materiale che a me comunque abbastanza convinto soprattutto perché di solito poi non andiamo a prenderlo proprio con tutta la nostra mano perché andiamo a mettere il polsino di cui adesso parliamo quindi naturalmente questa parte è studiata anche per avere un ottimo grip insieme al polsino e visto che ve ne parlo questo polsino è stato diminuito di peso e tutto il sistema di polsino insieme all'apertura superiore si chiama shark è stato diminuito di peso come dicevo del 30 per cento è molto più traspirante glielo ho utilizzato durante delle giornate in cui il caldo era veramente intenso e non mi hanno mai sudato le mani e soprattutto una cosa che ho molto apprezzato è che nella parte inferiore dove va naturalmente ad appoggiarsi sul sughero c'è un materiale diverso naturalmente pensato per dare maggior grip sul sughero per quanto riguarda invece l'apertura beh questa qua possiamo dire che è quasi universale perché comunque va a prendere qualsiasi grandezza della mano naturalmente c'è la parte sinistra e la parte destra e a questo punto dato che ve l'ho descritto tutto arriviamo alla parte clou ovvero il sistema di chiusura questo sistema di chiusura mi ha dato un po gioie e dolori nel senso che funziona bene perché comunque basta andare a premere la parte superiore si va ad aprire il gancetto e si riesce a sfilare e lavora bene il problema con ogni tanto notato che questo sistema di mano non va ad aprirsi perfettamente ogni tanto come dire bisogna fare un po più di pressione per riuscire a mandarlo in dentro in tutto la parte di chiusura e riuscire a sfilarla e soprattutto io avrei preferito una parte superiore da sfilare un pochino meno lunga perché qua decisamente lunga nel senso quando andiamo a sfilarlo ci sembra sempre quasi un arrivare alla fine fosse stata un qualche millimetro meno lunga l'avrei preferita un aspetto da non sottovalutare per dei bastoncini da trail running e anche la loro dimensione da chiusi il bastoncino è lungo 35 centimetri naturalmente con la quarta parte infilata dentro la parte superiore ed avendo un diametro molto piccolo in generale lo si riesce benissimo a impugnare con una mano quindi quando noi andiamo in pianura in tratti dove non ci servono i bastoncini e non vogliamo andare a riporli o possiamo naturalmente correre con i bastoncini aperti oppure se vogliamo chiuderli come potete vedere ci stanno benissimo in una mano la mia mano è abbastanza grande ma vi assicuro che anche in una mano decisamente più piccola questi ritoris ci vengono in pugnare senza nessun problema ora che ve li ho descritti tutti naturalmente arriviamo alla parte più interessante come performano beh la performance è davvero di altissimo livello questo bastoncino non ha nessun tipo di vibrazione su qualsiasi tipo di terreno l'ho provato e vi assicuro che le vibrazioni veramente sono talmente piccole da essere quasi impercettibili scarica molto bene tutta l'energia che noi utilizziamo per muoverci sul terreno diventa quasi come un'estensione naturale della nostro arto superiore la nostra mano e sono davvero stati progettati ingegnerizzati bene sono dei bastoncini che offrono un'altissima performance dei bastoncini molto veloci da persone che corrono da persone che vanno forte da persone diciamo atleti di alto livello ecco in conclusione vi voglio parlare del puntale un puntale che anche lui mi ha convinto l'ho utilizzato per tanti chilometri ed è praticamente ancora nuovo penso che questo puntale ci andrete avanti davvero migliaia di chilometri senza tanti problemi per quanto riguarda invece la corona attorno al puntale questa non è tonda è studiata in modo tale che ne semplifichi l'uscita quando lo mettiamo magari all'interno di rocce e funziona devo dire io questi bastoncini li ho potuti testare alla valgrosina trail parti rocciose ne ho trovate parecchie e devo dire che questa parte così ingegnerizzata funziona davvero molto bene è una piccola chicca che però davvero dà conto di quanto lecchi studi bene i propri bastoncini perciò ragazzi arriviamo alle conclusioni per questi lecchi ultra trail fx one super light allora è un nome lungo quanto è lungo il prezzo nel senso questi bastoncini costano costano 190 euro è un prezzo che probabilmente per alcuni di voi avrà fatto storcere tantissimo il naso perché davvero costano una follia ma a mio parere li valgono tutti li valgono tutti perché sono dei bastoncini davvero super performanti e di solito chi va a spendere una cifra tale è anche perché è un'atleta magari di alto livello perché non dico che fa trail per lavoro ma ha bisogno di materiali di qualità e qua la qualità c'è tutta l'ingegnerizzazione c'è tutta proprio lo studio del dettaglio c'è e quindi diciamo che secondo me il prezzo anche se vi sembrerà altissimo è giustificato rispetto a quello che andremo a comprare perciò ragazzi io nella speranza sia stato esaurimento esastivo anche per questo video naturalmente vi saluto e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao